Professor Lenzi, la campagna Amico Andrologo, che cos'è e qual è stata la risposta da parte sia delle scuole che dei ragazzi? La campagna Amico Andrologo è una campagna di prevenzione da un lato e di sensibilizzazione dall'altro. Quello che noi abbiamo voluto fare è portare ai ragazzi la notizia che c'è uno specialista di riferimento anche per i maschi, non c'è solamente per le donne e quindi anche per i maschi c'è una possibilità di avere una prevenzione adeguata che può portare così il ragazzo di 18 anni ad essere un uomo felice quando ne avrà 30, un uomo che può riprodursi senza difficoltà quando lo desidererà, un uomo che ha una vita sessuale felice, congrua e anche informata.